Vi apre le porte l'Arezzo Fiere questa volta per un appuntamento con il mondo degli ungulati. Certo, quando io mi sono insediato come presidente avevo due obiettivi. Uno era il mondo della caccia in generale e questo evento è l'evento più specifico del settore in questo momento più trainante e interessante della caccia che è quello della gestione del prelievo degli ungulati, quindi cinghiali, cervi, caprioli e tutto l'ambito della canna rigata. Sarà una grande festa, sarà sostanzialmente la possibilità di avere una serie di seminari tecnici, quindi più che una fiera vera e propria è una convention espositiva, quindi ci saranno le armerie, ci saranno le attrezzature, ci sarà l'abbigliamento tecnico, ma ci saranno soprattutto tanti convegni sulla sicurezza del cane, sul prelievo, sul trattamento delle carni in caso di abbattimento e tanto altro. E oltre questo alcune zone di divertimento come il tiro al piattello ad infrarossi o gli arcieri che daranno la possibilità anche ai bambini di cementarsi in questo sport. Grazie. 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 Grazie.